La lettera di Filippa Lagerbacch e la figlia Stella, l'emozione di Daniele Daniele Bossari, finale GF VIP, la lettera di Filippa Lagerbacch e la figlia Stella, l'emozione di Daniele. E' finalmente giunta la tanto attesa finale del grande fratello VIP. Ed è arrivata con il carico di emozioni che tutti si aspettavano. Così, ecco sbucare anche la figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerbacch, Stella. Ed ecco sbucare anche una lettera dell'adolescente e della svedese, naturalmente indirizzata a Daniele. Un missiva piena d'amore, che si è subito propagata sui social, mandando in estasi i tanti fan del conduttore e della sua famiglia. Largo poi all'incontro tra padre e figlia, che ha pure rotto le stringenti maglie del GF VIP, quelle imposte dal Freese, è la finale e tutto è concesso. . Filippa Lagerbacch e la figlia Stella mandano una lettera a Daniele, la finale del GF VIP e le emozioni. . Papà continua a viaggiare a testa alta, lo sguardo illuminato dalle stelle, non temere nulla, il futuro ti aspetta. . Stella e Filippa. Questo il messaggio recapitato a Daniele da parte della compagna Filippa e della figlia. . Un momento toccante ed emozionante. Ma d'altra parte tutto ciò che toccano e vivono la Lagerbacch e Bossari si tramuta in romanticheria. . Dopo la lettera, il conduttore di Mistero ha avuto modo anche di incontrare la figlia Stella. . Teoricamente ci sarebbe stato un Freese da rispettare, ma tutto è andato all'aria. . Il Ari Blasi ha tentato di fermare la situazione, ci sarebbe un Freese, ma a nulla è servito. . Nessun problema comunque. . E la finale, tutto è concesso. . Lo spettacolo continua. . Tutti pazzi per la Bossari Family, Filippa esulta. . Non credo di aver mai ammirato qualcuno come Ammiro Bossari. . . E poi con la sua famiglia è meraviglioso, lo sguardo di Daniele verso sua figlia, Amore Puro. Sono due twee, scelti tra centinaia, che spiegano bene il clima attorno alla Family Bossari. . Un clima alimentato dal calore e dalla stima di tanti fan, che giorno dopo giorno hanno trovato in Daniele e Filippa un amore autentico, un modello, un esempio da seguire e per cui emozionarsi. . . Tutte situazioni che Lala Gerbac ha percepito e che più volte ha sottolineato con fierezza, ringraziando i tanti seguaci che hanno accompagnato lei e Bossari durante il reality. . .